Uno dei processori più usati in fase di mix per la batteria ma non solo per la batteria anche per il basso e per altri strumenti come la voce è che di fondamentale importanza è il compressore Allora il compressore è un processore dinamico perché? Perché va a lavorare sulla dinamica della singola traccia che noi andiamo a processare Come funziona il processore? Allora non è difficile da capire a volte secondo me c'è un po' di... Io noto che a volte la gente, i principianti comunque sia magari usano il compressore più che altro in modo creativo Nel senso per ottenere proprio un certo tipo di suono che non è sbagliato però questo li induce a muovere i parametri del threshold, attack, release, ratio Un po' a muzzo no? Cioè nel senso quando il mio orecchio sente che quella cosa funziona va bene, mi fermo lì e va bene Però magari diciamo che non ti dico che questo procedimento sia del tutto sbagliato perché l'orecchio comunque sia fondamentale Però se tu sai cosa stai facendo sicuramente farai prima e otterrai meglio quello che hai in testa Quindi definiamo un attimo qual è il compito del processore Il processore cosa fa fondamentalmente? Lavora sulla dinamica abbiamo detto Quindi noi impostiamo una soglia di valore Quindi ad esempio che ne so Quindi se la traccia supera i meno 6db il compressore si attiverà In che modo? Andando a comprimere il segnale che esce dai meno 6db E di quanto comprime quel segnale? Quel segnale lo comprime in base al parametro che noi andiamo a impostare del ratio Ratio scritto Ok? Che i parametri del ratio sono sempre 2, 4, che sta 2 a 1, 4 a 1, 6 a 1 eccetera Cosa vuol dire? Se noi impostiamo come valore 2 Vuol dire che se appunto il segnale mi supera del meno 6db E me lo supera di solamente 2db Quindi vado oltre il segnale di 2db Mi comprimerà il segnale in uscita Il segnale oltre il meno 6 Facendomi suonare in pratica 1db Quindi mi comprimerà semplicemente 1db Perché? Perché se il ratio io l'ho impostato a 2 2 a 1 vuol dire che il valore che oltrepassa la soglia verrà diviso per 2 Naturalmente ci sono altri parametri molto importanti da tenere conto Che sono l'attacco e il rilascio Che sono fondamentali specialmente per la batteria Che stanno a indicare in pratica il tempo in cui il compressore si attiva E il tempo in cui la compressione viene smorzata Questo è il lavoro che fa il compressore Che è molto importante per la batteria Perché la batteria sapete che ha bisogno di un segnale piuttosto omogeneo E purtroppo non sempre riusciamo a tenerlo sulla batteria Special con la cassa o con il rullante Quindi ora che sai meglio come funziona il compressore Se avevi qualche dubbio Potrai meglio capire le sue funzionalità Spero tu abbia trovato questo video interessante Ci vediamo al prossimo video Ricordati di mettere un mi piace se ti è piaciuto questo contenuto Ciao alla prossima